Dal 25 aprile del 2024 possiamo trovare su Prime Video Gli Addestratori, un film diretto da Andrea Giublin, scritto da Michele Abbatantuono e Lara Prando, con protagonista Lillo, nei panni per l'appunto di un addestratore che dopo aver perso una scommessa con l'ex moglie interpretata da Geppi Cucciari è costretto a cederle il suo amatissimo cane restando senza animale ma anche senza soldi, tant'è che andrà a vivere dalla sorella sposata con figli e deciderà di aprire un centro cinofilo per l'addestramento di cani per guadagnare qualcosa. C'è però un fraintendimento e le persone piuttosto che mandare in questo centro appena aperto i propri animali domestici ci manderanno i propri figli perché lo scambiano per un istituto dove si educano i bambini. Ora io di commedie ne vedo tante e tante volte capita anche di prendere delle cantonate. Questo è il caso perché per come si sviluppa la trama di questo film io volevo mettermi le mani nei capelli, non ci si crede mai. I protagonisti visto che erano stati già pagati profumatamente e fuori passa l'ambulanza che mi sta venendo a prendere non è che dicono a questi genitori c'è stato un disguido qua destriamo cani, animali, riprendetevi bambini non abbiamo alcuna competenza. No! Tengono questi nane rottoli per una settimana e va da sé perché è di un prevedibile infinito che poi si creeranno dei bei rapporti che questi bambini aiuteranno il protagonista a riprendersi il cane bla 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 e insegneranno i protagonisti ai bambini tante cose, tanti valori e tutto è bene quel che finisce bene. Ora mica mi aspettavo che tutto andasse male ma è proprio la trama che ha un cratere logico alla base. Ora voi mi dovete spiegare anche provando a sospendere l'incredulità in tutti i modi possibili anche dimenticando la tabellina del 2 come si fa a credere a un fraintendimento quando sul poster c'è scritto educatore cinofilo, 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 cinofilo. Posso capire che nella locandina c'è un cane grande, un bambino grande, non ci fosse stato scritto cinofilo, uno poteva dire. Ma cos'è però anche lì? Pensare che esista una villa dove lasci come dei pacchi una settimana i bambini e in una settimana li fai diventare, non lo so, ubbidienti e come non sono mai stati prima mi sembra assurdo. Ora io non volevo chissà quale giustificazione ma nemmeno prendere lo spettatore per idiota. Ma cioè questi vogliono portare i bambini per farli cambiare e migliorare ma dovrebbero essere i genitori, andare a studiare, a un minimo aprire un libro e imparare a leggere perché ragazzi io non ci volevo credere. Poi tutte le dinamiche che si susseguono sono di uno spento, di un telefonato, di uno scialbo. A livello registrico Andrea Giublin non convince, poi io non avevo visto altro di suo né televisivo né cinematografico, però è proprio un film spento, è proprio un film anonimo. Come anonimi sono tutti i protagonisti, quelli grandi, quelli piccoli. Lillo è simpatico ma perché fa se stesso? Se pensiamo ai bambini, questo era un difetto che c'era anche nell'ultimo film di Milani, Un mondo a parte. Non si entra mai in sintonia con loro, non capisci i loro problemi, sono tutti accennati, buttati lì, il rapporto con i grandi c'è e non c'è. Ad un certo punto si scomoda anche Profondo Rosso la canzone, la colonna sonora meravigliosa dei Goblin. Profondo Rosso mentre Lillo entra dentro insomma questo posto dove lavora e trova tutto sottosopra perché i bambini hanno combinato danni. Ma veramente utilizzare Profondo Rosso in quel modo? Io non avrei mai creduto di annoiarmi e di non aver voglia di vedere un film mentre in sottofondo c'è una colonna sonora così straordinaria. Quindi a me dispiace, nel cast c'è anche Francesca Agostini, Massimo De Lorenzo, Bianca Nappi, Anita Caprioli, la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino, ma è proprio un film brutto, è proprio un film che annoia e dura poco, dura un'ora e mezzo. A me lo sapete, piacciono quei film dai buoni sentimenti, quei film per grandi e piccoli, quei film per famiglie, però un conto è quel film che ti vedi, che riesce a coinvolgerti, ad appassionarti anche nella sua semplicità, non importa che sia per forza un'idea originale mai vista prima. Qua, io che non sono sceneggiatore, avrei pensato ad una cosa più interessante, per dire, piuttosto che far vedere il protagonista come un addestratore cinofilo di cani, ma perché non poteva essere una persona, ma perché non poteva essere una persona separata che non può avere figli e quindi dice, non posso avere figli, apro un centro per, non lo so, la formazione dei bambini, una sorta di baby park per tenere questi bambini mentre i genitori sono in vacanza, che ne so, un centro pomeridiano dopo scuola e così facendo lui che non può essere padre di un bambino diventa padre di tanti bambini, come si può dire, come si suol dire, spiritualmente parlando, cioè incontra tanti bambini, cioè non serviva a niente questa, questa crasi fra la cinofilia e quindi l'addestramento dei cani e poi non ci sono i cani, ci sono i bambini, ma poi si ritorna ai cani perché i bambini aiuteranno lui a riprendersi il cane, anche il personaggio di Geppi Cucciari che dovrebbe essere la strega cattiva delle fiabe, no, non funziona, è proprio un film che vorrebbe essere fiabesco ma che non riesce ad essere all'altezza forse delle aspettative del regista e degli sceneggiatori, è proprio un, boh, è prodotto da Lucky Red, lì per lì mi è sembrato di rivedere uno dei bruttissimi ultimi film di Brizzi, tipo, come si chiamava, Bla Bla Baby, mi sembrava di rivedere uno di quei film lì, oppure uno degli ultimi degli Younats, dove c'è anche lo spirito e la voglia di raccontare qualcosa per tutta la famiglia ma poi il risultato è scialbo, è televisivo, è spento, è anonimo, quindi boh, io sono molto deluso dopo la visione e se sono più severo è anche perché, lo sapete, già il cinema italiano viene spesso criticato, se poi non ci si sforza un minimo di creare qualche intreccio e poi uno dice, vabbè, vediamo questa storia assurda, alla fine sicuramente il personaggio protagonista, assieme a tutto il suo team, c'è Giovanni Vernia nel caso, insomma, riusciranno anche a averla vinta sulla giustizia, oppure comunque prima o poi li scopriranno, succederà qualcosa, i problemi non sono affrontati, perché quando tutto viene fuori si passa di palo in frasca e c'è l'ultima gara del canino per riprenderselo, insomma, non si pensa ai guai giudiziari, ma ci rendiamo conto, io capisco, va bene, è una commedia, sospendiamo l'incredulità, ma a conti fatti questi sciagurati si sono finti educatori senza avere la minima esperienza e hanno tenuto dei bambini lì in questo centro per una settimana. Io comprendo, i bambini si sono trovati bene, tutto è bene quel che finisce bene, ma ragazzi, se vogliamo essere minimamente logici, anche nel giudicare un film di questo tipo, ma cavolo, ma immaginatevi nella vita di tutti i giorni che adesso è una cosa del genere, partendo dal presupposto che genitori che portano bambini in un posto e che pagano profumatamente questa villa, questo centro, senza informarsi prima, ditemi voi già alla base, io non sono uno sceneggiatore, ma alla base, se mi chiamassero direi subito, quindi allora fatemi capire, questi hanno pagato fior fior di quadrini, ma non si sono informati, cioè non stanno mandando lì, che ne so, degli amici, no? Stanno mandando lì dei bambini, non tipo, oh mi consigliate un posto dove passare le vacanze? Sì, ma c'è questo centro, informatevi voi, ci mandano i figlioli e non si sono informati, potrebbe essere Auschwitz là dentro, non si sono informati, bene così, quindi già lì assurdo, ma poi i soldi già spesi tutti, non li possiamo dare indietro, già spesi tutti, anche lì, se li avete già spesi tutti, non è mica colpa vostra, sono gli altri che non si sono informati, se a me mi prenotano una settimana a Cervinia e io sono uno che lavora lì a un hotel a Cervinia e mi dicono ma non c'è il mare, siete voi che avete prenotato montagna, che non c'è il mare ve lo devo dire io, mi sembra logico, questi non si informano, loro non hanno i soldi da restituirgli, chi se ne frega, avete pagato, non vi siete informati, affari vostri, noi l'abbiamo scritto, centro cinofilo, insomma io non lo so, non ho parole, poi alla fine quando la realtà viene a galla, viene fuori, mi prendo io tutta la responsabilità, e qual è la responsabilità? siccome i bambini sono stati bene e sono riusciti comunque a imparare qualcosa e han parlato con i pad perché c'era quello che voleva fare, c'era quel babbo che voleva che il figlio facesse pianoforte, lui non voleva quindi si ribella al babbo, tutto è bene quel che finisce bene così. Ora non dico che dovesse finire con l'arresto del protagonista, ma nemmeno una tarantella in questo modo qui a prova di scemo, questo è veramente un film proprio per l'amore che provo nei confronti delle commedie leggere, gli addestratori, esce il 25 aprile e la vera liberazione è stata quando è finito per me, non è veramente brutto brutto brutto, però fatemi sapere la vostra, parliamone, discutiamone, se l'avete visto, se a voi è sembrato carino, sono contento, poi se farà altri film Andrea Giublin, sono il primo Giublin, Giublin, non so come si pronunci, li guarderò e sarò il primo che spera di apprezzarli, ma questo no, non ci siamo assolutamente. Ciao ciao! Ciao!